Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi mega unboxing ragazzi, un mega per... Mega! Quando dico mega è perché questo è pieno di roba, è roba molto caliente. Dunque mi raccomando ragazzi, questo unboxing contiene qualche piccola chicca per le prossime gare e anche e soprattutto una novità appena uscita, quindi vi do l'anteprima. Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi i video, iscrivetevi anzi se non siete quelli iscritti. Dunque ragazzi superiamo i 120 mi piace per un unboxing del genere perché, cazzo, una novità appena uscita, ve la faccio vedere. Mi raccomando qua con i commenti vi aspetto. Dunque non perdo tutto il tempo perché ci sarà un po' di roba scottante. E quindi via con la sigla! Allora paccozzo diretto da Tubertini, ci siamo un sacco di esche che tra l'altro molte delle quali mi serviranno per le prossime gare. Ci sono un paio di accessori, tra l'altro dato che siamo al Branzino Challenge ho dovuto fare un po' di scorta di Top Water. Questo unboxing sarà a tema Top Water in pratica. Allora, vediamo qua, subito all'occhio mi arriva il mitico Speedex, che a Orbetello mi ha dato grandi soddisfazioni. Questa colorazione non ce l'avevo ancora, ma la volevo da tempo, che è spettacolare. Vedo l'ora di poterla provare. Nero opaco. Questa è la taglia più piccola, quello che usa anche a Cavedani. Cioè, guardate che bello. Cioè. Sto nero opaco è fenomenale. C'ha un po' di viola in testa. E lo Speedex, ormai chi conosce il canale, lo conosce bene, che è un'esche che mi fa fare l'impossibile. E quindi, se non sapete bene chi ha lo Speedex, oltre ad aspettare un prossimo video a spigole, quindi andate a vedervi gli altri video del canale che ha tante tante catture sulle spalle quest'esca. La colorazione nera mi servirà soprattutto con tanta luce, quindi si vede meglio da sotto un nero. E quindi sì, ne avevo bisogno. Quello di quest'esca è che in qualsiasi situazione crea tante vibrazioni, quindi anche quando c'è onda si può utilizzare e si può utilizzare sia in acqua dolce che salata dappertutto. Anche pesci che è più difficile pensarci, perché comunque è un'esca molto compatta. Altra esca che non avevo ancora, almeno in questa taglia, è colore il Sultan, che è un needle. In questo caso ho la taglia più piccola, che è da 15,5 cm per 20 grammi, quindi posso lanciarla tranquillamente con la mia Blackwater o con la Spirit. Colorazione bianca, che è un colore che va tanto, ma tanto, perché abbiamo visto che va tanto e voglio provarla anche a Reali Topwater, se ne avrò l'occasione. Non ci resta che provarla. Andiamo avanti. SK Road Stand della Seica. Eccolo qua. Questa è la confezione. E questo è il Road Stand. È un Road Stand che di solito si usa a Trautaria, che ho visto portare da Carlo all'italiano da Riva e ho capito quanto è veramente comodo, soprattutto quando si va a pescare da Riva, soprattutto magari dove ci sono rocce, sassi, quindi possibili punti di rottura per le nostre canne. Soprattutto quando abbiamo una situazione di più di una canna, è comodissimo. Primo punto perché non danneggiamo le canne. Secondo punto è il trasporto, perché ragazzi portare le canne, tre canne, senza farle grovigliare tramite questo e quindi poterci camminare, andarci in giro, è la cosa più comoda del mondo. Poi quando si tratta di appoggiarle, che magari non sempre ci sono i punti d'appoggio, soprattutto a State Fishing o altre pesche volendo, perché potrei portare a Foss Fishing, ma Foss Fishing volendo porto solo una canna e sono a posto. Ma comunque risulta comodo perché non stai là a perdere tempo nell'appoggiare la canna, magari cambi canna, appoggi. Quindi non sempre l'appoggio è comodo, magari i cani scivolano, rischiano di rompersi o anche i mulinali di danneggiarsi. Qua è comodo, gambe allungabili. E si possono, vediamo com'è che si fa, c'è una leva e si possono in teoria estendere tanto così, cioè possiamo impiantarlo praticamente ovunque senza nessun problema. Porta canne, cioè ci richiude in pochissimo spazio, cioè è piccolo alla fine, cioè si può portare anche in viaggio. E i portacanne hanno anche lo svaso per il mulinello, meglio di così, voglio dire, è uno degli accessori penso che userò di più da quest'anno perché mi tornerà molto molto utile, soprattutto nell'italiano. Poi, ciò dobbiamo, altro accessorio, ho preso non uno, non due, ma ben tre asciugamani. Ho degli asciugamani fatti apposta per la pesca, ma sono anche belli grandi, il tessuto non è male. Troverò un modo per attaccarlo magari nello zaino e anche da alcaie che si tornano utili perché quando bisogna prendere il telefono con le mani bagnate sembra un casino. Quindi, a meno degli asciugamani che so, quelli sono per la pesca e non vado a sporcare gli asciugamani da bagno. Altro accessorio che ho voluto prendere per le situazioni anche un po' più invernali sono i guanti in pelle. Prima cosa, tornano utili in kayak. Seconda cosa, con i pesci che hanno un po' di spine, tipo la spigola, il reale, che rischi un po' di trucidarti le mani, sono comode. Poi, quest'inverno soffrirò meno il freddo, sono anche belli, cioè, tengo un caldo però sono tutti gommati, quindi pelle e gomma, bel grip, sono anche belli carini. Sì, insomma, tengono caldo, proteggono le mani quando maneggi il pesce, hai un miglior grip sulla canna, quindi perché no? C'è almeno il rischio che ti infili una mesca nella mano, quindi solo punti a favore. Andiamo avanti, Dottor F, che ne ho ordinati un po' perché li ho provati e sono micidiali. Abbiamo questa colorazione qua, pancia bianca, schiena marrone. Ve l'avevo già fatto vedere il Dottor F perché c'è una colorazione Aiu. È un'esca che ha una doppia azione brevettata da Seica. Come vedete ha due anelli, quello più in basso serve per far spanciare l'esca come un pesce morto. A chiunque l'ho mostrato comunque è rimasto stupito perché comunque l'attrattiva sul pesce è veramente alta, perché se è un pesce morto i pesci, come sappiamo i predatori, cercano comunque la preda più facile da predare e quando c'è un pesce morente è la prima cosa che puntano e quindi questo recupero risulta veramente efficace. Se lo attacchiamo sull'anello più alto risulterà un classico VTD. Ho anche questa colorazione per Orbetello, dato che va molto alla colorazione naturale, però non è l'unico. Abbiamo poi, ecco qua, novità estiva del 2021 per Seica, il Vibo. Che è un Lipless Crank da 4,5 grammi per 3 centimetri, montato con il doppio amo singolo senza ardiglione. L'esca che nasce per il Trautaria ma anche per il Light Spinning. Questa è una delle mie colorazioni preferite. Argento riflettente con schiena nera, gialla e rosa che ricorda molto quella del Ciroc come colorazione. Ho già avuto modo di provarne uno e ha un bel wobbling in discesa. Scende abbastanza velocemente perché comunque è nato per fare pesche di profondità in Trautaria. Quindi stare a contatto col fondo, quindi è fatto anche per stare così. L'ho preso sia per far Trutaria che però anche alla ricerca di Reali e Cavedani che questa ragazzi è una caramellina. 3 centimetri di esca, 4 grammi e mezzo. È una vera caramellina. Ci sono di quelle colorazioni tipo queste che sono spettacolari. Non vedo l'ora di prenderci qualche bel pesciotto. Abbiamo lo Speedex nella taglia più grande che è 11 centimetri con 17 grammi. Su questa colorazione con la pancia bella bianca che ho usato a orbettello. Mi ha dato tante soddisfazioni i pesci più grandi. Anche pesci piccoli, pesci da 20 qualcosa centimetri ci danno su un'esca del genere. E purtroppo un Serra me l'ha portato via. Quindi ho detto non può mancare il mio arsenale. Poi, poi, poi lo abbiamo anche in versione più piccola da 90. Ecco qua. E tra l'altro, ragazzi, se avete paura di prenderlo perché pensate sia grande. A parte che 90 si conta dalla punta qua alla punta qua. Da qua a qua sono 7 centimetri. Quindi un normale gerchetto da Cavedano. Certo, è un pochino più grande rispetto a un normale gerch. Però fidatevi, ai pesci non importa. Perché vedono praticamente questa parte qua. La codina, vedono solo acqua che si muove. Quindi togliete un altro centimetro. No, e fidatevi. È molto facile prendere con questo. Perché risulta estremamente piccolo e attrattivo. Poi, poi, dai. Cosa abbiamo ancora qua? Dr. F color rosa. Eccolo qua. Questa tra l'altro ha la taglia più piccola del Dr. F. È l'85. C'è anche una versione più grande, però a me piace andare più sottile. Rosa, pancia arancione, corpo traslucido. In modo che con le situazioni di poca luminosità si può giocare. Se teniamo sul recupero basso, ovvero orizzontale, quello che vedono è praticamente questo. Che riflette particolarmente un pesce naturale. Invece se lo utilizziamo VTD, vedono l'arancione, vedono il trasparente. Comunque un colore che con poca visibilità torna molto utile. Altro Dr. F. Questa volta colorazione natural, diciamo, con la testa blu. Anche per farlo vedere un po' di più al pescatore. Corpo interamente traslucido, quindi passa la luce. Tra l'altro ricorda tutti i pesci che vengono predati dai predatori. Praticamente tutti. Più abbiamo dei brillantini qua sulla parte terminale per ricordare un po' le scaglie. Fare quei piccoli riflessi che possono fare la differenza in alcuni casi. Abbiamo il Vivo colorazione nero opaca. Tanta tanta roba. Acqua pulita e acqua sporca. Se la gioca tutta. Questo qui. Ci sono un sacco di colorazione, c'è anche una semi-pellet che è tanta roba. Questa non è da meno. Guardate che bello. Guardate che bellino però, dai. Poi non vedo l'ora di farvelo vedere in azione. Poi altro Vivo. Colorazione bianco. Bianco panna. Eccolo qui. A contrasto col nero abbiamo il bianco. Altro bel colore. Soprattutto in natura. Sarebbe curioso tra l'altro anche di mettere magari delle ancorette a vedere se cambia il moto. Poi qua abbiamo Speedex 110. Colorazione natural. Pesce foraggio. Altra colorazione che adoro. Che ho solo nella versione da 90. E volevo anche nella versione più grande. Ecco. Questa la vorrei provare tanto a serra. E ha il spigolone. È molto bella. Non so, io ogni volta rimango incantato a guardare quest'esca. Perché mi dà un sacco di soddisfazioni. Però... Tanti di quei pesci. Che metà fa basta. Questa traslucida quindi come prima. Il discorso della luce. Che passa attraverso. Eccetera eccetera. E speriamo di farci tanti by passion a breve. Qui abbiamo un altro Sultan. Colorazione bianca. Altro Dr. F. Altro Dr. F. Colorazione marroncina. Un altro Vivo. Colorazione nera. Dunque ragazzi. Per questo unboxing è tutto. Spero vi sia piaciuto. Dunque mi raccomando ragazzi. Non perdete i prossimi video. Che... Stanno arrivando delle cose... Fuori di testa. Dunque mi raccomando. Ragazzi lasciate un commento di iscrivervi al canale. Se non siete ancora iscritti. E io vi posso dire... Ci vediamo nei prossimi video. E ciao a tutti. Ciao a tutti.